Dobbiamo confidarci con Dio, dire la verità, lo ha detto il Papa nell'Omelia della Messa del Mattino. Lui può farlo. Quando lo farà? Come lo farà? Non sappiamo. Questa è la sicurezza della preghiera. E il bisogno di dirlo con verità al Signore. Sono cieco, Signore. Ho questo bisogno, ho questa malattia. Ho questo peccato, ho questo dolore, ma sempre la verità, com'è la cosa. E lui sente il bisogno, ma sente che noi chiediamo il suo intervento con sicurezza. Pensiamo, se la nostra preghiera è bisognosa, è sicura. Bisognosa perché ci diciamo la verità a noi stessi. È sicura perché crediamo che il Signore può fare quello che noi chiediamo.